Vorrei sottolinearla perché mi sembra la cosa più importante e anche un segnale, la presenza a questo tavolo oltre che dei magistrati, oltre che del presidente della commissione antimafia, del sottosegretario allo sviluppo economico, che è un fatto rilevante anche se uno può pensare che è una palermitana, ve la trovavate qui a portata di mano? No, quello di cui vi prego di non parlare perché io già ho dei limiti strutturali, sono nato un po' così, poi quando la gente parla vado in tilt, non riesco a capire più. Per cui questa presenza, dicevo, è una presenza molto importante. Le questioni, è importante perché il ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico, semmai magari in un altro convegno si aggiungerà, io mi auguro, credo che sia un'idea percorribile, del Ministero del Lavoro per gli aspetti che riguardano i dipendenti delle aziende confiscate, per esempio, che in passato, diciamo, temi che in passato sono stati affrontati e che poi, insomma, sono stati abbandonati dai governi e quindi, diciamo, questa può essere un'ulteriore, come possiamo dire, gamba in un ragionamento di prospettiva. Ma torniamo a noi. Si è parlato molto di dati statistici e certo si è parlato molto, per esempio, dell'elemento chiave che fa pensare alla presenza della criminalità organizzata individuando, per esempio, gli omicidi, la presenza di omicidi, mi veniva in mente che la Trapani degli anni 70, se consideriamo questo elemento, era un paradiso terrestre, probabilmente non c'erano omicidi. Io ho sempre pensato, scusate i miei limiti, ho sempre pensato che semmai la presenza pervasiva delle mafie si vede dall'assenza di omicidi, cioè nei casi in cui c'è un controllo del territorio assoluto, forte, gli omicidi tendono a diminuire perché c'è chi garantisce l'ordine. Questo è un elemento. La seconda questione è quella del 416 bis. Io faccio un ragionamento sempre da apprendista stregone e a me sembra di percepire una certa inadeguatezza ormai dello strumento della definizione di associazione mafiosa rispetto a una serie di elementi che invece sono piuttosto evidenti, per esempio l'incrocio tra, prima è stato detto e sottolineato, mi pare l'ha detto molto bene per Giorgio Morosini, l'incrocio tra l'attività delle mafie vere e proprie e il ruolo che nel generare affari, fatturato e una serie di vantaggi, giocano sia gli apparati pubblici variamente intesi, quindi dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali a, diciamo senza nascondere nulla, per esempio ad alcune partecipate dei comuni o delle regioni, sia al ruolo di mediazione, non di mediano, mi dispiace dirlo, insomma però in molte inchieste in Calabria, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto e possiamo continuare, in Campania emerge un ruolo molto da intermediazione criminale, da rapporto, da cerniera delle classi professionali, non degli avvocati solamente ma degli ingegneri, di tutti e quindi questo è un elemento che rimane come sfondo nel nostro paese. Allora, tanto per cominciare a sbrigarci, prima che Cocomi venga a togliere il microfono, partirei dalla questione del 416 bis, da una rappresentazione di Cosa Nostra o delle cose nostre, o delle mafie in generale, che è molto fluida, a volte impercettibile, che ha messo anche in difficoltà il giudice di merito, per esempio in Lombardia. Ma non solo questo, c'è un'altra questione che è stata per esempio sollevata in Commissione Antimafia dal professore Fiandaca, ma che è stata anche detta prima, che è quella della formazione dei magistrati. Siamo proprio sicuri che i magistrati che indaga in parti del paese dove magari non c'è una presenza storica delle mafie siano pronti, capiscano qual è in realtà il problema, riescano a fare le giuste connessioni. Siamo veramente sicuri che l'apparato investigativo complessivamente è pronto, visto 70 sentenze in Cassazione, di cui forse l'80% riguardano il riciclaggio di robe varie che non sono certamente mafiose. Siamo proprio sicuri che siamo in grado di capire come in questo momento vengono in realtà riciclati i denari delle mafie. Lo chiedo ovviamente a Franco Roberti, che ha la responsabilità di guidare la Procura Nazionale Antimafia, quindi che ha una visione d'insieme e un compito di coordinamento. Vi pregherei...